A proposito di quello che è successo ieri a Palazzo Chigi, la colpa è solo di chi semina odio, come qualcuno ha detto, oppure c'è dell'altro? Io credo che di fronte ai drammi sociali sarebbe utile che le forze politiche utilizzassero la testa e l'intelligenza. C'è una crisi della rappresentanza e della democrazia in questo Paese e quindi credo che l'impegno non sia quello a discutere di chi è la colpa se succedono queste cose, ma di affrontare i problemi che possono risolvere questi problemi. Oggi il problema è il lavoro, dare una prospettiva di lavoro, creare lavoro per chi non ce l'ha e per far questo servono nuove politiche. Quindi è necessario che la risposta non sia parole ma nei fatti, di chiacchiere ne hanno già fatte anche troppe. Il proposito di questo è soddisfatto del governo Letta, Letta diceva che le politiche del lavoro devono essere tra le priorità, è soddisfatto per esempio della scelta di Giovannini che da saggio aveva auspicato una nuova elasticizzazione del lavoro a tempo determinato? Sulla forma del governo io registro che si sono messe assieme forze politiche che in campagna elettorale dicevano cose opposte. Quindi sinceramente non so se questo sarà una cosa che permette di fare concretamente delle cose e penso che questo nella testa delle persone, nel rapporto con le persone, qualche problema lo crea. Dopodiché per quello che ci riguarda dovremo vedere che programmi e che cose concretamente dicono e fanno. Noi siamo per chiedere dei cambiamenti, noi partiamo da un giudizio negativo delle scelte che sono state fatte prima dal governo Berlusconi e dal governo Monti. Per noi uscire dalla crisi vuol dire cambiare quelle scelte che sono state fatte, dal taglio alle pensioni, all'assenza di politica industriale, all'attacco ai diritti. Queste saranno le richieste che noi faremo, tra l'altro come FIOM abbiamo già indetto una grande manifestazione a Roma il 18 di maggio, proprio perché vogliamo rimettere al centro il lavoro e incalzare il governo sulle cose che fa. Noi nella nostra autonomia lo giudicheremo per quello che fa. Se c'è un cambiamento rispetto ai governi precedenti, ben venga. Se non c'è è necessario mobilitarsi perché questo avvenga, perché il Paese ha bisogno di cambiamento.